Paolo Sassanelli canta Matteo Salvatore in Foresta Umbra sul Gargano. Qual è il luogo migliore di questo? Eh appunto, qual è il luogo migliore di questo? Sembra che qua qualsiasi cosa fai prende un'area di mistero, fascino e quindi va benissimo. È stata un'esperienza bellissima, il luogo si conferma uno dei più affascinanti, ma è inutile che lo ripeto, capito? Si sa, è un luogo incredibile, straordinario. Aver cantato e raccontato la storia di Matteo Salvatore è stata una bellissima esperienza, poi con due musicisti fantastici, quindi bellissimo. Il rione Iunno di Monte Sant'Angelo e Mond per il terzo anno torna a Monte Sant'Angelo a parlare di cammini e di cinema. Raccontaci un po' la tua esperienza a Mond, le tue impressioni. Ma la prima volta che sono venuto presentavano il mio film che ho fatto, Due piccoli italiani. Poi sono tornato per un'altra cosa, me ne sono andato in giro qua, poi mia moglie è venuta qui a presentare il cortometraggio di mia figlia qui. E quest'anno sono tornato ancora, devo dire, di mettere la firma, ma non per tanto, perché è un luogo spiritualmente importante. Io non sono cattolico, sono buddista, però ho un grande rispetto e so che cosa vuol dire la spiritualità. E a Monte Sant'Angelo si respira proprio, in ogni pietra, in ogni luogo dove vai. L'aria che respiri è piena di emozione, è piena di desideri, di speranze, di preghiera. E c'è un posto pazzesco, con un'energia incredibile. E quindi tornare qua ogni volta è sempre una specie di pellegrinaggio in un santo, perché anche nella storia buddista ci sono i santi. E quindi per me è un'esperienza spirituale ogni volta tornare qui a Monte Sant'Angelo. Poi si fa cinema, Luciano Torriello sta facendo un lavoro incredibile. Questo luogo potrebbe essere veramente, lo diciamo sempre nei posti dove andiamo, ah qua si potrebbe, no no ma qui veramente a Monte Sant'Angelo potrebbe essere un grande punto o centro dove si parla, si fa cinema e si proietta il cinema, si fa vedere il cinema. Perché è un luogo particolarissimo, particolarissimo. E quindi, che altro vi devo dire? Ho mangiato le orecchiette con le cibi di rappe di grano arso, abbiamo parlato di pasta nera appunto. Questo posto, poi questo albergo è bellissimo, bellissimo. L'aria che si respira è proprio con le persone, con gli esseri umani, è un'aria di serenità, di tranquillità, di bellezza, di godersi la vita. Quindi far nascere un festival di cinema, dargli più risorse, non sarebbe per niente male.